Nicola Rulli, capocannoniere del campionato con la casacca dell'amatori foro, tu sei al primo anno in questo mondo Wisp, 25 reti nelle prime 21 giornate, anche se poi in realtà si sono giocate meno partite, quindi una media di più di un gol a partita, ti aspettavi un rendimento del genere in questo campionato? Buongiorno Alessandro, diciamo di no, perché comunque venivo anche da diversi ruoli e per quest'anno mi sono imposto sia di cambiare la categoria e soprattutto di tornare al mio ruolo naturale. 25 reti ti stanno dando ragione per la felicità del presidente, il patrona Bonizio, entusiasmo che traspare anche dalle parole di Claudio Mennillo, dirigente storico dell'amatori foro, che ha detto il bomber ragazzo speciale, ragazzo a moto, ha portato anche degli amici, è clamoroso, incredibile ma vero, l'amatori foro inizia anche a fare allenamento. Sì, 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 ma infatti la felicità è doppia perché comunque i risultati iniziano ad arrivare, soprattutto con i giocatori che ho voluto portare io, ma dove a loro stessi mancavano una giusta categoria, una tranquillità per ripartire con un secondo passo della carriera tutto qua. Stai trascinando a suon di reti l'amatori foro, l'amatori foro inizio davvero tribolato, diciamo che il nuovo anno non era iniziato nel migliore dei modi, con quel recupero a Nocciano che vi ha visto sconfitti con un punteggio decisamente importante, adesso però la formazione bianconera sta iniziando ad ingranare, 15 punti in classifica, una salvezza che sembrava davvero impossibile, adesso diciamo che è alla vostra portata. Sì, assolutamente, tenendo presente che comunque tutto, io sono entrato a fare parte dell'amatori, diciamo la terza giornata, e sai, si perdeva però, diciamo, perlomeno io sono rimasto tranquillo perché comunque piano piano ci siamo imposti che era giusto non lasciare la Serie A perché è un bellissimo campionato, quindi piano piano, ecco, con i giusti giocatori e con almeno un po' di allenamento, vogliamo ottenere, diciamo, questa categoria. La cosa, diciamo, che inizia un po' a serpeggiare tra le mura del mondo Wisp, ormai il tuo nome inizia a essere davvero riconoscibile, non è che magari adesso temi qualche marcatura da osservato speciale? Non è che magari adesso temi qualche marcatura da osservato speciale, visto il ruolo di capocannoniere? Beh, chiaro che l'importante è il massimo rispetto reciproco perché comunque, sai, già si vede che è tutta un'altra categoria e mentalità soprattutto, c'è da aspettarsi di tutto, però è chiaro che il calcio è questo, quindi andiamo avanti e la prima cosa attualmente sono i risultati. Poi, ecco, se qualche compagno di squadra inizia anche a segnare, non è... è meglio ancora, ecco, sarei più contento. Grazie Nicola, in bocca al lupo. Grazie, buona Wisp, buon campionato.